Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di un mito, vale a dire la borsa Birkin. Ovviamente non parliamo della borsa di Hermès, costerebbe un po' troppo, grazie al set Birkin di cui dispone Tessiland, in modo tale da poterla personalizzare esattamente come voi volete. Elegante, capiente e ispirata ad una delle donne più sensuali del Novecento. E pensare che tutto ebbe inizio su un volo Parigi-Londra. Curiose di scoprire la storia, ma soprattutto di vedere il set nel dettaglio? Allora guardate questo video e scopriamolo insieme. Ecco come vi arriverà il set Birkin, composto ovviamente da fondo e patta superiore con relativi manici e chiusura. Analizziamo però nel dettaglio quelle che sono le misure di ogni singola componente. Allora le misure sono lunghezza 25 centimetri, mentre questa altezza è di circa 10 centimetri. Veniamo adesso invece ai manici. Parliamo di un'altezza totale di 12 centimetri per una larghezza di 10. Ci sono ovviamente le apposite chiusure, eccola qui, a girello, che quindi poi vi consentiranno di aprire la vostra borsa. E ovviamente insomma tutto il lavoro va montato attraverso questi fori, che invece hanno un diametro di circa 0,4 millimetri. Parliamo di un materiale in ecopelle davvero di ottima qualità, che ovviamente potrete trovare sia nella parte interna che nella parte esterna, quindi è davvero molto valido. Parliamo invece adesso del fondo. Il fondo invece misura 24 centimetri di lunghezza per 8 centimetri di larghezza, con un diametro del foro di circa 0,4 centimetri. Ma adesso vediamo quelli che sono i colori presenti all'interno della gamma Tessiland. La variante di Seth Birkin che abbiamo visto finora è la variante cuoio. Poi abbiamo il bordeaux, panna, il nevi e infine, come è ovviamente deducibile, la variante nera. Un set in ecopelle a marchio Tessiland, davvero una garanzia di qualità e di continuità che come sapete Tessiland può sempre garantire e che vi consentirà di realizzare delle borse davvero molto eleganti, sofisticate, di carattere, soprattutto se utilizzate con un filato ad esempio sfumato o con il lurex. Insomma davvero ci si può sbizzarrire con qualsiasi tra i tanti filati per borse presenti sul nostro sito e realizzare anche voi la vostra pratica Birkin. Ma come nasce? Abbiamo detto prima durante un volo tra Parigi e Londra. Ebbene sì, vale a dire, è questa piccola curiosità. Nel 1983, pensate su un volo Air France tra Parigi e Londra, Jean-Louis Dumas Charmant di Hermès e la sensualissima, bellissima ed indimenticabile attrice Jane Birkin si incontrano su questo volo. Casualmente si siedono vicino e tra i due nasce subito una scintilla, una forte intesa, iniziano a scambiarsi idee ed iniziano una conversazione vivace e brillante. È ad un certo punto che l'agenda della famosa attrice Jane Birkin cade spargendo quindi tutti i suoi fogli, tutti i suoi appunti e lei esclama nessuna agenda e nessuna borsa è in grado di contenere tutti i miei fogli. Et voilà! È a quel punto che Dumas le promette che realizzerà una borsa capiente ma allo stesso tempo molto elegante in modo tale che lei possa contenere in realtà tutte le sue idee dando vita quindi a questo mito che voi stesse potrete adesso realizzare proprio con il set Birkin che abbiamo visionato nel dettaglio quest'oggi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così di essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, le nostre curiosità, le nostre rubriche e le nostre idee. Noi ci vediamo al prossimo prodotto! Ciao!